Al Nazareno la tensione è altissima. Si era capito un minuto dopo l'uscita di Michele Emiliano, nessun azzeramento della giunta, dobbiamo solo completare i buchi. Mi mancano due assessori, dice il governatore della Puglia. I due buchi sono l'assessore del M5S che ha lasciato la giunta e Anita Mauro di Noia, l'ex assessore ai trasporti indagata per voto di scambio. E nessun commissariamento del PD pugliese che è un partito sano.Tutto qui il netto cambio di fase invocato da Ellis Klen? Non credo basti, osserva tagliente a stretto gira un dirigente vicinissimo alla segretaria. Un umore che non è cambiato in giornata. A sera arriva una nota di Scla in punto e se ieri c'era forte irritazione, oggi c'è un escalation dell'irritazione. Ho chiesto al presidente Emiliano di dare seguito a quello che ho detto venerdì scorso a Bari, tenere lontani trasformisti, transfughi dal centro-destra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra. Nel PD che stiamo ricostruendo gli interessi sbagliati e le modalità opache devono trovare porte chiuse e sigillate. E dunque, prosegue, mi aspetto che proceda dunque a un netto cambio di fase che, affonda la segretaria, non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il presidente Emiliano operi in tempi brevi e con risultati tangibili. Parole che suonano come un ultimatum tanto che la risposta di Emiliano arriva a strettissimo giro. Darò seguito alle indicazioni della segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a un netto cambio di fase. Insomma, qualcosa in più del rimpastino annunciato in mattinata e che ha fatto saltare sulla sedia mezzo PD. In questi giorni ho approfondito con la segretaria Ellis Clenny i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie che, pur non avendo riferimento ad alcuna attività della giunta regionale, non possono lasciarci indifferenti e meno che mai inermi. Darò quindi seguito alle indicazioni della segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a un netto cambio di fase che dia il senso di una storia dedicata al presidio di legalità e alla lotta a ogni forma di criminalità anche attraverso l'attività politica quotidiana. Grazie 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 Grazie